Siamo allo Stato Brado, che è un circolo arce valermetano. Lo Stato Brado è in realtà anche il luogo di lavoro, è l'anima vera e propria di due associazioni. A Cario, che si occupa di promozione e difesa dei diritti umani, è Magweb, che è un'APS, una associazione di promozione sociale, che lavora in ambito di comunicazione, comunicazione in particolar modo per il sociale, quindi per il terzo settore. Lavorare a Palermo, lavorare nel mondo della comunicazione a Palermo per la difesa dei diritti umani e per il racconto di tutte le realtà che hanno a che fare con il sociale, è relativamente facile, perché Palermo gode delle capacità di vivere delle reti di comunità, che sono molto forti. Riuscire a creare legami a Palermo credo che sia particolarmente facile, proprio perché è un'indola naturale, tipica dei palermitani e dei siciliani. Magweb lavora in particolar modo in questo senso, quindi riuscendo a creare reti tra le varie associazioni, tra tutte le realtà che operano per il sociale. Credo che una delle particolarità, delle peculiarità della vita e del vivere Palermo sia la capacità di vivere per strada. In fondo è per strada nelle piazze che si creano le relazioni e tutti i nostri rapporti, le possibilità. Quello che costruiamo forse proviene esattamente da quello, dalla naturalezza con cui faccio una rete e faccio una comunità. Credo che sia uno dei momenti migliori, almeno da dieci anni a questa parte, un momento di grande rinascita. La città si sta trasformando, si sta trasformando il sentire anche delle persone. Credo che sia destinato a essere davvero un laboratorio sociale per tutta Italia. Grazie. 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 Grazie.